ciao tutte stelline con calma, con calma ce la possiamo fare questo qua è un video haul Avon in collaborazione con la dolcissima e simpaticissima Avon Perry ciao tesoro un bacione di cui vi lascio il link giù al suo canale nell'infobost mi raccomando date a vedere perché è molto brava allora giù nell'infobost comunque trovate tutti i link ai nostri social dove trovarci così siete aggiornati sulle nostre perché la pagina si chiama Ani e Sabi World che non è stato un errore ma è una cosa volta dove trovate tutti gli aggiornamenti sulle nostre passioni e niente possiamo cominciare con quello che abbiamo preso noi da dove vuoi cominciare dal principio allora la nuova acqua profumata cocco e carambola eccola qui si il cielo è com'è è un po' è un po' è un po' da settembre la collezione Avon True Color ecco qui ho lavato sia a me che il tavolo beh fa niente così profuma anche il tavolo tieni sono delle perle e sono 22 grammi due anni durano dall'apertura quelle correttive esatto se non le perdiamo tutto lungo e quando le uso io le perdo notte ne ho perso anche perché giustamente con il ritardo non toccare in macchina le ho perso in macchina stupendo quello che ho fatto scorta ne ho preso un altro però sono un po' in macchina ogni tanto mi finivano nel lavandino è bello perché con il pennellino giri e così prendi tutti i colori e copre è molto spiccio molto spiccio sì sì è una cosa molto molto bella poi di questi allora il correttore ne abbiamo presi due come uno è già dentro nella trus da scuola della trus esatto della tita quindi ve ne facciamo vedere questo qua è il medio si il medio poi anche di questi correttori qui sempre due ma uno è già finito dentro nel suo esatto sono quelli per il correttore colorato esatto ce ne sono tre esatto vediamo io ti do la scatola per una donna poi abbiamo andato a prendere due docce schiuma della scuola della scuola allora uno è meta e tè verde tutto trasparente è bello è bello sentiamo la profondazione cosa ci dice eh cosa ci dice sai che questi non riescono ad aprire che buono sicuramente c'è anche il colore tipo un giallo e bilancio esatto e poi abbiamo preso quello tropical papaya e pesca sentiamo anche questo ci abbiamo lasciato giustamente andiamo nell'inverno e abbiamo colori e cari abbracciato così ci ricordiamo dell'estate poi ho preso lo shampoo della naturals quello per la forfora tè verde e menta esatto è che ci sono troppe cose della natura eh no no com'è il profumo? buono si perché un po' di tutto no mi hai preso due? si mi ho preso due esatto forse che fosse tipo shampoo e barbara no 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 adesso devo finire quello che mi piace tanto la verbena quella è buona è buonissima esatto io uso quello il due in uno perché shampoo e balsamo insieme tu stai usando allora quello con la papaya e roba del genere è molto buono anche quello poi io ho dato freddo che ci prego tanto quando mi devo lavare i capelli almeno se è due in uno sai barattoloni da 700 ml mi sa che tu ne abbia ancora un po' si però forse è meglio metterli in barattolotti più piccoli c'è un barattolino più piccolo? oggi può fare i capelli? esatto non sembra ma c'è di? si e poi abbiamo preso il mascara black su black quello della big che noi ci troviamo bene con questi della big invece per la scuola l'ho preso su un normale super shock perché sai portare a scuola troppo a roba comunque un po' molto bello a noi piace prevedere lo scuola che è molto bello mi raccomando ragazze giù nei commenti cioè fateci sapere voi come ci trovate con come vi trovate con i prodotti se li avete già provati alcuni di questi oppure sì sì giusto ho detto giusto ecco pensavo di aver sbagliato qualcosa per quello che mi sono niente dentro nei commenti lasciateci diteci se li avete già provati e come vi siete trovati noi appena ho provato questo magari vi faccio proprio una mini recensione veloce 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 per sapervi dire come mi sono trovata quindi mi raccomando se vi è piaciuto il video pollici in su iscrivetevi al nostro canale e seguitici sui nostri social mi raccomando un grosso bacione ciao 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 ciao